Noi introduciamo norme molto severe e interveniamo su tre cose che stanno dentro il circuito della pubblica amministrazione e che non è proprio un circuito virtuoso, cioè l'abuso delle consulenze esterne, nonostante ci siano tantissime amministrazioni che hanno ottime professionalità al loro interno, il ricorso eccessivo al precariato che serve solo per alcuni tipi di prestazioni professionali che devono essere temporanee ed eccezionali e invece negli anni il ricorso ai contratti a termine è diventato quasi una regola per alcune pubbliche amministrazioni. Tutto questo ha reso ancora più incerto il destino al futuro di una parte consistente del nostro sistema di lavoratori pubblici, demotivandoli e interveniamo anche rispetto ad un'altra grande ingiustizia storica nella nostra pubblica amministrazione che è quella di fare i concorsi, nominare i vincitori e gli idonei ma non consentirgli mai di entrare in una pubblica amministrazione. Ci sono tanti ragazzi nel nostro paese e noi faremo il censimento con questo decreto di tutte le graduatorie valide di tutti i concorsi banditi da tutte le pubbliche amministrazioni ma sappiamo che sono circa 70.000 i ragazzi che in questo paese da oltre 7 anni hanno partecipato a concorsi, hanno studiato, si sono sottoposti ad una valutazione severa ed oggettiva e nonostante siano risultati migliori non sono stati presi dalle amministrazioni che hanno preferito a volte per scelte ciniche anche di calcolo politico l'utilizzo di strade di scorciatoie o di contratti diciamo così di favore anziché seguire le regole del pubblico e quindi questa è un'altra cosa che noi rimettiamo a posto con questo decreto.